La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per la morte della 31enne, deceduta mentre stava partorendo all'ospedale della Gruccia. Questa mattina i carabinieri hanno acquisito la cartella clinica della donna, mentre la Salma resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio del nosocomio valdarnese. Nelle prossime ore il PM Laura Taddei, titolare dell'inchiesta, affiderà l'incarico ai medici che dovranno eseguire l'autopsia per far piena luce sulla vicenda e chiarire così il perché della morte e se in qualche modo questa poteva essere evitata. Il dramma si era consumato nella notte tra sabato e domenica all'ospedale della Gruccia di Montevarchi. La donna, 31enne nigeriana, si era presentata all'ospedale attorno alle 3 di notte. Era la 41esima settimana di gravidanza e stava per pertorire. Già madre di altri due figli aveva deciso per un parto naturale. Era stata così ricoverata in reparto e poco dopo era iniziato il travaglio. Alle 6.30 è andata in arresto cardiaco. Assieme ai medici del reparto è intervenuto anche l'anestesista che ha praticato le manovre di rianimazione. Con un cesario di urgenza, la bambina è nata pochi minuti dopo l'arresto cardiaco della madre. Le condizioni generali della piccola sono apparse buone. Per precauzione e ragione del contesto della nascita, la piccola è stata comunque trasferita alla terapia intensiva neonatale delle scotte. I medici hanno tentato per più di due ore di rianimare la madre, ma per lei non c'è stato niente da fare. La donna, residente a Montevarchi, è deceduta. L'ASL aveva subito avviato un'indagine interna e informato a Regione Toscana e Ministero della Salute. Per questa mattina era in programma un riscontro diagnostico per stabilire circostanze e cause della morte della giovane donna. L'intervento della magistratura, però come prevede la legge, ha interrotto l'iter interno per dare precedenza agli accertamenti degli inquirenti.